frullato dimagrante di ananas zenzero e kiwi ciao amici i frullati sono una fantastica invenzione lo pensate anche voi io li adoro soprattutto al mattino in estate perché quando fa caldo non so cosa mangiare ma non voglio saltare la colazione così per cominciare mi faccio un bel frullato e dopo mangio qualcosa di proteico di solito scelgo ingredienti sempre diversi e quelli di oggi sono fantastici ananas il re dei drenanti zenzero il campione dei bruciagrassi e kiwi l'alleato e amico dell'intestino tre pezzi grossi in un frullato vai avanti se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video il frullato di ananas zenzero e kiwi è utilissimo per nutrire e perdere peso se serve gli ingredienti hanno poche calorie ma sono ricchi di nutrienti saziano a lungo e sono buonissimi non solo al mattino come prima colazione ma anche a metà mattina come merenda del pomeriggio e se si ha bisogno di chiudere il passo con qualcosa di dolce ma non si vuole rovinare la dieta questa è una soluzione ideale che ci tiene lontani dai dolci se si vuole perdere peso velocemente in vista della prova bikini si può bere il frullato di ananas zenzero e kiwi come pasto sostitutivo a patto di aggiungerci anche delle proteine in polvere per due o tre volte la settimana questo frullato a pochissime calorie zero grassi ed è ricco di fibre così limita l'accumulo dei grassi vediamo ora la ricetta per fare un frullato ben equilibrato ingredienti una tazza di ananas fresco tagliato a pezzi un kiwi un cucchiaino di zenzero grattugiato un bicchiere di acqua la ricetta è facile da fare e non ci sono scuse per rimandare a domani preparazione fare i frullati è la cosa più facile divertente basta mettere tutto insieme e frullare finché diventa cremoso il trucco per assimilare tutti i nutrienti al meglio è berlo subito appena fatto e adesso vediamo le proprietà degli ingredienti ananas l'ananas è uno dei frutti più ricchi di acqua in estate mantiene idratati e con il suo sapore naturalmente zuccherino ci tiene lontani da dolci bibite e gelati finalmente una cosa buona che fa anche bene l'ananas contiene bromelina un enzima digestivo e brucia grassi antinfiammatorio sgonfiante e drenante perfetto per le nostre giornate estive zenzero ormai tutti lo amiamo è un alimento termogenico che attiva il metabolismo aiuta a bruciare i grassi lo zenzero sazia e riduce il desiderio di mangiare altri alimenti per questo si può considerare un vero soppressore naturale dell'appetito ma senza effetti collaterali secondo alcune ricerche lo zenzero contrasta il cortisolo l'ormone che quando è in eccesso favorisce l'aumento di peso soprattutto il grasso addominale kiwi il kiwi è ricchissimo di vitamina c ed è una bella sveglia per il metabolismo il consumo di kiwi ha un effetto positivo sulla regolarità intestinale e aiuta a mantenere la pancia sgonfia depurata e quindi piatta già solo per questo io lo adoro per vedere tante altre ricettine sane e sfiziose basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona partecipa agli eventi vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta italia prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere mangia consapevole e vivi meglio vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed ebook i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao